Eccolo il regalo speciale che Suor Bertil la porterà in India. È un mattone della Porta Santa di San Pietro a Roma. Collocato in occasione del Giubileo del 2000 ed estratto nel 2015, Anno Santo della Misericordia, il mattone è stato donato alla religiosa bergamasca dal Cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica. Quale riconoscimento per il prezioso lavoro che le missionarie dell'Immacolata svolgono dal 1948 in India, nella cura dei lebrosi e dei malati di tubercolosi. Per me è stata una sorpresa grande, perché non me l'aspettavo. Oltre alla sorpresa, un dono perché un ricordo come questo da portare in India è una cosa che ha davvero un valore grande. Suor Bertilla è madre superiore del Vimala Dermatological Center di Monbei, dove trovano accoglienza e cura 13.000 lebrosi di uno dei quartieri più poveri della megalopoli indiana. Tutti mi chiedono, ma non è ancora debellata questa malattia? Purtroppo non è ancora debellata in India, perché ci sono ancora casi nuovi. Allora il lavoro che stiamo facendo è quello di controllare la zona continuamente. In più abbiamo il lebrosario dove ricomeriamo i casi più gravi. Ma anche tanti malati di AIDS sono stati accolti e curati dalle missionarie. Mille bambini poveri studiano nelle loro scuole. 500 ragazze e tante bambine cieche e abbandonate hanno trovato da loro una casa. 79 anni. Suor Bertilla è missionario in India dal 1970 e in quegli anni ha conosciuto madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa per me è stata una donna che mi edificava, perché quando andavamo in questi camp per aiutare, lei veniva anche su questa jeep e come saliva sulla jeep iniziava a pregare. Una donna di preghiera, una donna di servizio, una donna esemplare.